Un vasto sistema frontale associato ad una profonda depressione sull'Europa centrale valicherà l'arco alpino nelle prossime ore, favorendo l'approfondimento di un minimo sul canale d'Otranto. Venerdì il vortice si porterà sull'Egeo, favorendo un rapido aumento della pressione sull'Italia centro-settentrionale. In Toscana, giovedì 5 gennaio sereno poco nuvoloso con addensamenti in intensificazione nel pomeriggio sulle zone interne, possibilità di deboli nevicate fino in pianura sui settori orientali della regione, venti moderati o forti settentrionali con raffiche di burrasca sui crinali, mari poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi a largo, temperature al mattino in temporaneo aumento in pianura, incalo in montagna più deciso dalla sera. Sul territorio provinciale cielo generalmente sereno, a Lucca e sulla temperatura minima meno 1 massimo 9 gradi, a Via Reggio e sul litorale minima 2 massimo 11, in Garfagnana e zone montane minima meno 3 massimo 8 gradi, venerdì situazione stazionaria ma con temperature minime in ulteriore diminuzione.